Tu lavori gratis? Io non credo. Se hai deciso di vendere casa, ti potrebbe succedere di incontrare qualche collega che ti proporrà di non pagare la provvigione e di lavorare gratis. Un'offerta allettante, penserai. Ma ciò che sta dietro ad un'offerta del genere è in realtà. Sono senza incarichi, ti prego dammi da lavorare. Affidami casa tua che non ti faccio pagare, basta che mi fai lavorare. Insomma è una cosa che conviene più a lui che a te. E adesso ti spiego come. Come pensi che un agente a zero provvigioni investa soldi, un piano di marketing serio al fine di farti ricavare il massimo profitto dalla vendita del tuo immobile? I mezzi di vendita oggi diventano sempre più complessi e costosi. Foto, video professionali, web marketing e home staging servono un sacco di professionalità, competenza e soldi. Se poi riceverà la provvigione solo dall'acquirente, sarà portato a tutelare solo lui e si guarderà bene dal salvaguardare i tuoi interessi, sia nella trattativa e sia nella stesura dei documenti contrattuali. Inoltre, se un agente è ridotto a lavorare a zero provvigioni, secondo te è il migliore sulla piazza? Conosci un avvocato importante che lavori gratis? Oggi è sempre più difficile vendere un immobile perché c'è tanta gente che vuole vendere e poca gente che può comprare. Se qualcuno, che non sia madre Teresa di Calcutta, ti dice che una cosa è completamente gratuita, stai ben certo che il prodotto sei tu e stai ben certo che stai già pagando o pagherai in un'altra maniera. Scegli con cura la tua agenzia immobiliare di fiducia.